Ci può essere fratelli e sorelle anche a migliaia di chilometri di distanza. È quello che prova Barbara Magalotti, che è in linea con noi, ma con il cuore si trova nella sua Bolivia, in un luogo speciale della Bolivia, dove da vent'anni presta la sua opera di volontaria, di psicologa, di educatrice. Un luogo molto speciale. È il carcere di San Pedro, alla Paz, una piccola città dove vivono oltre 2500 persone, dove fino a poco tempo fa vivevano anche centinaia di bambini che ora invece abitano all'esterno del carcere. E tu in questi vent'anni ti sei prodigata per queste persone, per accompagnarle, per mostrarle un lato della vita diverso da quello che avevano conosciuto. Barbara, qual è il significato di questa esperienza in Bolivia? Sì, come giustamente menzionavi, mi trovo in questo momento in Italia, lontano dalla mia missione, da quello che per vent'anni ho fatto e che mi ha insegnato tanto. L'aspetto più importante che mi sento di condividere con voi su che cosa significa il lavoro che ho fatto, che cosa mi ha portato, è la consapevolezza della bellezza, dello stare insieme senza pensare a troppo, a da dove veniamo e le possibilità che abbiamo. E quindi essere proprio presenti nella relazione, presenti nel tempo presente, senza discriminare anche solamente le colpe o anche noi stessi, perché abbiamo una grande fortuna di essere dove vogliamo essere, ma gustare, gustare, lo stare insieme nel momento presente. Gli stessi detenuti sono quelli che mi hanno giustamente insegnato a condividere il poco che si ha, il niente che si ha, il tutto che si ha. A me me l'hanno insegnato i detenuti che siamo tutti uguali. Per me il Natale effettivamente ha acquisito un significato molto diverso da come lo avevo sempre vissuto nel momento in cui ho avuto la fortuna di vivere il Natale con i miei detenuti. L'attesa del Natale come in un qualcosa che ci unisce tutti, come un qualcosa che dobbiamo festeggiare tutti insieme. E non c'era chi era libero e chi non era libero, perché eravamo tutti insieme in un percorso di attesa. E' un'attesa come qualcosa che è strano. Anche dentro un carcere, chi prepara un presepe, chi mette gli addobbi, chi condivide il suo pezzo di pane del rancio con chi non ha neanche quello, è una cosa che ti segna. A me ha segnato fortemente. E quindi il non poter vivere questo avvento e il Natale con loro è una feritina in questo momento, ma il prossimo Natale sicuramente sarò là. Per chi ti potrei fare un elenco lungo pagine intere di tutte le controindicazioni per una donna che parte dall'Italia da sola a entrare in un posto come un carcere maschile nel cuore della Bolivia. Non c'è bisogno che te lo legga questo elenco, lo conosci bene da sola. E allora cos'è che ti fa andare oltre ogni remora, oltre ogni paura, oltre ogni preoccupazione e da vent'anni a dedicare almeno sei mesi all'anno a queste esperienze? Hai detto bene, è vero che un carcere maschile non è esattamente il posto più sicuro per una donna occidentale in Bolivia. Eh ma bisogna avere un po' di follia, un po' di pazzia, bisogna buttarsi, no? Bisogna buttarsi, perché se non ti butti non saprai mai che cosa sarà. Ho avuto la fortuna di essere così un po' matta, di non farmi prendere dall'ansia ed è stato bellissimo, perché una volta che tu abbracci le persone, le accompagni, ci parli, le ascolti è talmente bello quello che ti ritorna indietro, è talmente molto più vasto, molto più grande di quelle poche cose che tu puoi dare, che poi diventa quasi un, non so come dire, un motore proprio, no? È un'umanità che si condivide e che si amplifica e quindi per me è il mio humus, è il mio nutrimento, è la mia, non so come dire, il mio regalo, è il mio regalo in questa vita poter stare con loro. Quando tu incontri le persone e non c'è un passato, un futuro, c'è che siamo adesso insieme e ci concentriamo su questa bellezza, c'è che adesso insieme stiamo preparando, che ne so, del riso con della verdura, c'è che adesso insieme siamo seduti uno davanti all'altro, io nella tua cella, sono qui, sono un essere umano e stiamo mangiando insieme, stiamo facendo un gesto che possiamo fare in qualunque parte del mondo. Cadono delle barriere, non so come dire, è la magia poi, no? Della relazione umana. Insieme alla tua associazione, che si chiama Laboratorio Solidale, alle operatrici che continuano a lavorare anche in tua assenza e questo è davvero molto molto bello, ma vi occupate dei ragazzi che sono fuori dal carcere, ma spesso in situazioni molto difficili, molto approssimative di relazioni, di affidamenti, vi occupate dei detenuti affinché possano una volta usciti ricostruire un loro percorso. Quindi la parola aiuto parte da te, dalla tua associazione verso di loro. In cambio, qual è la dote più preziosa che hai ricevuto in questi anni? Se dovessi dire quello che ti ha dato di più in questi vent'anni l'esperienza del carcere di La Paz. Allora, amore e pazienza. Queste due cose, cioè ho imparato quanto è importante la pazienza. La pazienza può avere tante facce, la pazienza nell'attesa, la pazienza anche nel non reagire impulsivamente o troppo impulsivamente e anche la pazienza, come la preghiera che dice insegnami la capacità di accettare le cose che non posso cambiare. E l'amore, l'amore quando ti… non so spiegarlo, è che a me mi ha preso l'amore, mi ha proprio preso e quindi io davvero con i bambini, con i detenuti, con le mamme, con le famiglie mi ha preso l'amore e quindi è un'energia che non è grazie a me. Questa è una cosa che è veramente un dono che mi è stato dato, di cui io ringrazio. Ma questo amore è, come dire, si è messo in moto attraverso la relazione con queste persone. Inutile dire che sei riuscita ad andare molto al di là delle responsabilità che queste persone in molti casi hanno. Se sono in un carcere evidentemente hanno compiuto, in alcuni casi so, anche crimini molto gravi. Sì. Ma questo non ti ha spaventato. Ehm, no. Ecco, una cosa, un'altra cosa che ho imparato in tutti questi anni, oltre alla pazienza, e più che imparato mi è arrivato l'amore, è che siamo tutti uguali. Siamo tutti uguali. Ad ognuno di noi, in determinate circostanze, in determinate situazioni, potrebbero succedere esattamente le stesse cose. Noi non sappiamo quali sono i motivi che hanno spinto l'uno o l'altro a commettere l'uno, quello o quell'altro crimine. Io non posso mettermi davanti a queste persone in una forma di giudizio. Ho davanti a me degli esseri umani. Io sono un essere umano e cerco, anziché la cosa che ci differenzia e ci distanzia, il minimo comune denominatore. Che cos'è che ci unisce? Che cos'è che ci rende uguali? E quello è il gancio, quello è l'appiglio dal quale si può tessere un percorso insieme. e nel quale si può, diciamo, intessere una relazione che sia costruttiva, in cui ognuno di noi può dare qualcosa all'altro. Poi, se c'è anche la condivisione del racconto, di quello che è stato il delitto commesso, eccetera, è un dono grandissimo, perché per me, quando una persona si apre, mi fa dono di un pezzo di sé che è delle volte molto nascosto, quindi questi per me sono dei gioielli, per cui li tratto come tali, come, diciamo, con la delicatezza che conviene, che gli si conviene, no? Che si conviene e con la gratitudine per aver avuto fiducia in me. e quindi dico sempre anche che quando si crea la magia per cui una persona ti racconta quello che ha fatto e magari piange, magari senti proprio il pentimento della persona, dici questo è un miracolo, è un dono. Tu, Barbara, non sei partita per un'esperienza di fede, sei partita e basta, il resto è arrivato strada facendo. In questo cammino c'entra anche quello che poi hai sentito a livello di di fede, tu mi dicevi ora si va verso il Natale, è un momento particolare, cioè in qualche modo la fede l'hai trovata lì o ne hai vissuto un'espressione concreta laddove invece in partenza non era stata quella la molla? Sì, devo dire che io lì ho avuto un'illuminazione come lo posso definire alcuni un insight proprio, un'intuizione profonda. Padre Filippo Clementi che era il cappellano delle carcere ed è per colpa sua che io ho cominciato tutto questo questa missione eravamo al carcere di massima sicurezza a farla la messa di Natale e io come sempre lo accompagnavo, facevo un po' da perpetua diciamo di questo padre Filippo e quel momento è stato bellissimo perché siamo andati a fare la messa di Natale nel carcere di massima sicurezza e Filippo ha preso il pane e ha detto a un ragazzo pluriomicida eccetera vieni, vieni aveva spezzato il pane e ha detto dallo tu ai tuoi compagni e lui ha detto io e io e Filippo sì sì tu vai e lui aveva un rispetto e una quasi timore di tenere questo piatto con il pane in mano quasi un senso di responsabilità ha cambiato l'espressione del volto e ha dato la comunione ai suoi compagni e io ho cominciato a piangere perché perché Filippo mi ha insegnato anche questo mi ha il Filippo e questi ragazzi quella situazione mi ha proprio insegnato questo che il pane spezzato insieme è la cosa più bella del mondo e non c'è chi è che dà il pane e chi lo riceve siamo tutti insieme seduti alla stessa tavola e il Natale è un Natale il Natale di tutti se non ci sei tu non è il Natale uguale come se non ci fossi e quindi è stato non lo so è stato magico per me è stato un momento molto molto significativo ecco ora so che ti devo fare quest'ultima domanda la più difficile per te perché è dura passare questo periodo per quello che ho capito lontano da questa dimensione da queste persone da queste relazioni che hanno riempito il tuo cuore e la tua vita si va verso il Natale siamo entrati dentro l'Avvento riempiamo queste parole di contenuto portaci lì e facci capire cosa significa per te cosa ha significato in tutti questi anni vivere questo periodo e vivere il Natale in mezzo a questa dimensione credo credo di aver avuto la fortuna di di sentirmi nel posto giusto al momento giusto e il Natale dopo che l'ho vissuto dentro il carcere con i miei detenuti preparando magari il pranzo di Natale andando a portare gli stessi detenuti preparando magari il latte e cioccolato da portare a quelli che erano nelle celle di isolamento quindi profonda solidarietà e fare le canzoni di Natale prepararle con tanta come dire con tanta precisione anche con tanta attenzione a che venissero bene le canzoni le melodie per la messa di Natale e mi ha beh soprattutto la solidarietà la solidarietà che ho potuto vivere sulla mia pelle e vedere dei detenuti degli ultimi con gli ancora più ultimi e questa cosa per me ha un valore inestimabile e lì ho capito che veramente non avrei voluto essere da un'altra parte e un Natale come questi in carcere non ce n'è al di fuori sì sono tutti diversi sono tutti belli possiamo essere in qualunque punto del mondo il Natale è Natale però per me egoisticamente sento di essere stata una privilegiata ad aver potuto condividere con gli ultimi degli ultimi il Natale Barbara salutiamoci come tu faresti con uno dei tuoi come dici tu dei tuoi detenuti dei tuoi ragazzi in Bolivia ecco una parola di saluto con un segno natalizio Feliz Feliz Navidad a todos che Dio sempre le accompagne e che sua vita sia sempre piena di alegria e che la solidarietà nonca nonca le falte le abrazio molto e le mando molta energia positiva les quiero molto ciao